salve sapevate che è nato un nuovo canale dove vedere film gratis legalmente no andiamo a controllare apriamo il nostro browser andiamo su youtube quando dobbiamo cercare il canale movdom che troverete in descrizione cerca eccolo qua clicchiamoci sopra andiamo in video e qua troveremo tutti i film che ci possiamo vedere completamente in italiano fatto